La Russia ha deciso di non rinnovare l'accordo sul Mar Nero che riguarda l'export del grano che scadeva oggi. La decisione di Mosca notificata ad Ucraina, Turchia e ONU. La parte relativa alla Russia in questo accordo sul Mar Nero non è stata finora attuata, pertanto il suo effetto è terminato, ha detto il portavoce del Kremlino Dmitry Peskov. Tra le richieste russe disattese, la rimozione dell'export di grano e fertilizzanti dalla lista delle sanzioni e la riconnessione al circuito SWIFT della banca agricola Russell Holzbank.